bella a tutti ragazzi sono Sergio Adrian Bertrotti sul mio canale oggi siamo qua con la missione numero 9 di Call of Duty at Lantern Warfare siamo rimasti appunto dove ci siamo rilassi con i Sentinel adesso qua appunto questo Pandora che è l'ero che siamo scesi al soffie della missione scorsa si sta dirigendo verso il sud della terra del frigo in Argentina da quel che ho capito e andremo lì a fare la nostra missione che si chiama l'appunto impatto forse perché non ci leggo da quella tv abbastanza lontana e anche questo come quella di Santorini è una bella missione ragazzi sentine il 23 in approccio finale ricevuto sentine il 23 massima priorità al carico tutto il resto è sacrificabile ok mando il joystick come attività ok scusate il paragone è un po' troppo grezzo ok questo è l'ero appunto Pandora quello qui abbiamo appena detto col rampino ci siamo appesi per registrare i suoi movimenti devo piazzare una carica qua per farlo dilottare ecco qua al mio segnale ora 10 secondi andiamoci l'inventa tutta una carica è una un tagliaferro e quindi si fa levare le ali e appunto l'ero viene dilottato adesso ci lasciamo andare diciamo che la tutta e il paracadute procediamo ricevuto Sentinel-1 Guardian 5 a terra pronti a ricevere abbiamo il vostro segnale Sentinel-2-3 controllo droni in arrivo K-Spin reazioni di Atlas ancora nessuna attività dalla loro piattaforma orbitale genitio giornale e se vede nulla di acciaio di Darwin in Antapide appunto stiamo andando nella terra del fuego in Argentina e l'abbiamo dilottato in Antapide eccolo la squadra di recupero è dentro e sta acquisendo il carico attenzione rileviamo un contingente Atlas in avvicinamento eccoli certi nel 2 portare il carico su Mario in 5 e o meno sono puntuali ok però è tanto musa adesso non ci serve bella questa maschina granata a microonde bersaglio a terra risoluzione diелю la mia segnale mi ha creato ma si c �ice c'è miglior m scopo Qual'è con me? Quanti sono con noi? Guarda che il gente va. Ok, infatti fuori uno andava abbastanza male al fondo. Mi ha preso un colpo. Oh, dov'è morire o no? Si è morto. E provo a fare l'azzardato, ovvero andare a spingere il carico. Un altro metodo a posto. No, stai a partire. Oh no, abbiamo preso il morso. Sparata. EMP, però per lui. Ciao. Che colpo. Dove devo rimanere così, in alto, a lungo? Allora, almeno l'ho portato fuori, ecco. Siamo scivolati nel ghiacciaio. Allora qua mi ricordo molto la misura di Far Cry. C'era di le guardie in questo ghiaccio. Che bello è che non vengono via le... Cazzo va. Mi sa che ti piace non vengono via sparati. Troppo in profondità. Dobbiamo arrivare al carico. Questa deve esserci in apertura. Dove è andato Gormack? Bene. Muoviamoci. Oh no. Ok, prima voi. Luci. Qui si gela. Regolatori termici fanno gli straordinari. A sinistra per forza. Mi spiace perché molte cose di questo gioco sono false. Le sparnate sono già molte indurite. Se sparo vedete che mi sale di ghiaccio. Non succede nulla. Queste sono cose che... Secondo me andrebbero un po' riviste anche nei prossimi Call of Duty. Tipo... World War 2 che uscirà tra poco. Eccoci qua. C'è un po' di luce. Bene, sei durato da Natale a Santo Stefano. Perfetto. Troppo presto, Michel. Che non succeda più. Ok, Gormack. Spedito giù. Perfetto. Perfetto. Perfetto, Michel. Perfetto, Michel. Occhio! Non ha visuale! Michel! Giù! Non si casca, ragazzi. Il spoiler non si casca. Michel! Destruge il monte! Mi sono За. Un è INFORCING! Automaine, chi è? certo! Perfetto! Sì tu, più schigati siamo sempre noi. Volevamo investire invece Mais perché quindi Tent父 sono ّ Rossi, questa encezione mi mant Давайте secondo me lì. Mi piacerebbe poter prendere le vestite dell'antisommosono. Ciò non è possibile. Se c'è acqua c'è vita, ok? E vedo già la luce del sole, perfetto. Che non si può correre, ma il salto boost può far correre. Quello che ho capito c'è da immergersi, mi sa andare lì sotto, appunto avevo visto bene, però il joystick non mi ci faceva andare. Devo aspettare prima di colpire. Arrivano altri nemici! Avanzare! Distruggiamoli! E tu? E tu? E tu? E tu? E tu? E tu? Prendiamoci! Ok, qualcuno me lo sono levato di mezzo, perfetto. avanzare sono tornati in superficie, perfetto guardia 5, qui sentine il 2 e 3, mi ricevete sentine il 2 e 3, dove cazzo siete? contatto, sono dei droni guardia sotto varie vittime, serve un'estrazione immediata usa l'MP, Mitchell deve essere l'elicottero dai, muoviamoci massima prudenza grazza il vento è qua da me guardia 5, guardia 5, in carico, ci avviciniamo alla sua posizione ricevuto, sentite il 2 e 3 raduniamo le soffroni ripeti Kingpin, recupero possibile ordinate i costati citati batteria e nervi manca a poco ancora voi? perfetto è andata bene anzi, benissimo direi no ecco, ma io potremmo anche evitare anche questo potrei evitarlo contatto più avanti cazzo, hanno il carico Kingpin, qui servizio 2 e 3 gandia 5, KO, teatras è il carico intercettiamo ricevuto mezzo di recupero in arrivo io scendo e creo un diversivo tu fai piazza pulita, Ilona spada quando siamo in posizione, Ilona quando vuoi, dice quando vuoi, dice fuoco avanti ci stiamo in carico fantastico coprimi apri il fuoco io voglio usare per sempre questa arma qua l'altro gruppo attenzio ok ok 2 in 1 carico, sprechiamoci dovete essere occupati apri il fuoco metti lì ecco, perfetto adesso c'è da risalire ed ecco qua un nostro vecchio amico a class 1, rapporto qui a class 1 Juarez e Michael sperduti cosa? perché adesso? potevi scappare da New Baghdad con noi? così ora non saprei niente c'erano troppe domande dovevi trovare delle risposte Irons pianifica un attacco preventivo contro gli Stati Uniti ha un'arma di distruzione di massa biologica e noi dovremmo seguirti? doveva ucciderci dovrebbe già fatto Irons ha tradito ciò in cui credevo lo voglio morto quanto voi se volete fermarlo dobbiamo raggiungere il carico subito ok facci strada ecco ragazzi abbiamo recuperato un pezzo da 90 che avevamo anche in in una moglie Atlas ovvero Gideon mi spoglio che Gideon sarà un uomo che sarà determinante per come andrà a proseguire la storia carico acquisito affermativo sicuro e intatto se è una parte che odio e agganciato ma starate solo al mio segnale no Gideon rilevo punti di calore sicuro di essere da solo laggiù c'è che c'è andare giunti qua presto qui viene due tolto prepara il carico stiamo arrivando Qua ragazzi abbiamo recuperato un campione di Manticore Che è l'arma di distruzione di massa creata da Irons Abbiamo un ospite con noi, poi spiegheremo tutto, Scormac chiudo E che appunto, come sappiamo, vuole distruggere il mondo con quest'arma letale che è un batterico in Manticore Ok Io vi saluto ragazzi, spero vi sia piaciuto il video Lasciate un like se vi vedete, come è scritto qua sotto per me è molto importante E noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi, grazie